Dario Barraco, la prima domanda che ti faccio è sicuramente rivolta al passato e ai tuoi ricordi più belli con la maglia carnata. Che cosa fotografi oggi in questo momento in cui tutti noi uomini di sport siamo un po' perplessi rispetto a quello che sta accadendo? Il ricordo di Trapani non può essere che stupendo perché io veni il primo anno di professionismo dell'era Morace quindi la cosiddetta C2 che c'era con una squadra diciamo normale di giocatori pochi che venivano al professionismo io e qualche altro la maggior parte tutta dal dilettantismo. Siamo riusciti a fare un'impresa che nessuno si aspettava perché al primo anno di professionismo vincere subito il campionato o meglio vincere la finale playoff con una squadra come l'Avellino che era stata attrezzata con giocatori addirittura di categoria superiore è stata veramente una bella soddisfazione per me e per i miei compagni di squadra. Ricordo ancora quella finale all'andata perdiamo 2 a 1 immediatamente davanti a 20.000 spettatori 25.000 spettatori al partenio. E poi facemmo questa finale di ritorno veramente che a ripensarci vengono i brividi perché dopo tanti anni di dilettantismo da parte del Trapani, della sofferenza dei tifosi del Trapani per tanti anni di dilettantismo siamo riusciti a vincere questa finale di ritorno in casa nostra davanti ai nostri tifosi. Vinceremo 2 a 1 entro i 90 minuti con un mio gol e con un mio assist tra l'altro l'altro gol lo fece Mastro Lilli andammo ai supplementari e poi facemmo il 3 a 1 con Pirrone un gran gol da fuori aria insomma mettemmo veramente il sigillo su questa splendida annata. Cosa che rischiava di capitare anche l'anno seguente con un campionato veramente difficile, una squadra che è Cremonese, Spezia, Frosinone, Siracusa, Lanciano. La seconda domanda invece riguarda l'attualità più stretta della squadra con cui hai giocato quest'anno che è il Dattilo, una situazione veramente paradossale. Ci auguriamo tutti che vada in un modo, cioè che al Dattilo possa essere riconosciuta la promozione in Serie D. Qual è il tuo sentimento, il tuo stato d'animo e il messaggio che puoi mandare alla tua società attuale? Abbiamo fatto un grande campionato, lo stavamo per vincere perché siamo stati primi dalla prima giornata fino all'ultima che abbiamo giocato, quindi un campionato strameritato, siamo a più 6 dalla seconda, quindi diciamo che ci meritiamo la vittoria. La società del Dattilo è una società comunque molto seria, gestita comunque con una gestione familiare, però da persone serie che comunque non ti fanno mancare nulla, ti fanno lavorare senza pressioni, quindi non a caso sono già sbariati anni che comunque vincono dei campionati e questo appunto era l'ennesimo. Aspettiamo l'esito dalla parte della Lega Nazionale di Lettanti, però io come già supposi due mesi fa che comunque non si sarebbe giocato e molto probabilmente avrebbero dato il verdetto, insomma, chi è primo con la vittoria del campionato. Purtroppo questo virus ci ha spiazzato un po' tutti, però comunque io non perdo l'occasione per potermi allenare, perché comunque lo faccio a prescindere, perché proprio per passione, perché comunque svolgo questa attività da quando ho 5 anni, quindi non saprei starne senza e quindi aspettiamo appunto cosa ci dicono, ma a me non mi va di perdere tempo, già comunque voglio allenarmi già per la prossima stagione. Un saluto a tutti, ciao Fabio!